Eccoci qua ad un'altra partita, sono andata un po' avanti, allora, in questo video sarà un po' più dettagliata delle spiegazioni, quell'altra era proprio una prova a dire il vero, volevo vedere come usciva un video ripreso così, visto che la scheda d'acquisizione sono talmente pezzente che non ce l'ho, ok, è triste, andiamo avanti, io giro che continua, bene, sì va bene, sono pezzente, ok, non ho un soldo, quindi devo farle così, le acquisizioni dei video, almeno questi qua, fatte da Xbox, perché poi dopo magari, quando avrò qualche gioco per il PC, che posso, magari faccio un gioco su Pomeranian God Wi-Fi, però intanto insomma, mi accontento di così, allora, andiamo un po' avanti, Santa Freccetta, guidami tu, Santa Freccetta, è chi ha la Freccetta? Ok, entriamo un attimo nello spirito, uccidi o viene ucciso, ok, ci siamo, un soldi a, sono pezzente anche qui, tutti i pezzenti, se la Big Sister con caccio non ho sfondato una vetta, ma non fa niente, a proposito, io ho incenerimento, ecco qua, devo incenerire cose, allora, io, con incenerimento dovresti poter sciogliere quel ghiaccio, ottimo, la prima passa, eccezionale, sei la proverbiale manna dal cielo, ora apri la galleria dalla cabina di sicurezza laggiù e io uscirò e salirò sul treno, ok mamma, allora, un obiettivo, si blocca la linea ferroviaria, ah, minchia, qua è proprio qua per farti capire che devi andare lì, te lo illumina in una maniera tipo divina, e potevi andare qui, per forza, ecco, ok, perché non ti apre, ah, mi piace guardare un uomo negli occhi quando gli do la mia parola, negli occhi, tu e io ragazzo, ne vedremo delle belle, grazie, ciao Sinclair, pensavo fossi uno di quei golem di Sinclair, col compito di bloccare le braccia di Raptor mentre lui fuga nelle sue tasche, invece no, tu sei conscio della tua condizione, chi, mi chiedo, potrebbe essere così crudele, costringere un uomo senza volto a guardarsi nello specchio, che ne chiedi, la lei non ci aspettava, esci con le armi spiegate e sali a bordo, mamma, 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 mamma va benissimo, va benissimo tutto, tutto va benissimo va bene let's go sto guidando il treno non ho idea di quello che sto facendo ok queste canzoni sono maraviglie durante i caricamenti it's a train of pain che cacchio un bruto oh mio cacchio e bruti c'hanno pure qui grazie grazie l'amber sta cercando di intrappolarci ragazzo questo blocco è esteso per tutta la dannata città per proseguire il viaggio serve la chiave di bypass della sicurezza della governatrice locale Grace Holloway mi ha sfruttato dal mio stesso hotel il Sinclair Deluxe che si trova qua giù trovala e recupera la chiave come here che cacchio un po' di chi è ha che cacchio un po' di chi è che cacchio un po' di chi è Adesso se riesco faccio una macchina Non, 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 non Non, 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 non Allora adesso abbiamo ucciso un Big Daddy E questo è il Big Daddy Grazie E che facciamo con la soresina? La adottiamo Quanto è carina E' un bimba E' un angelo Vai Un momento Un dio E' un bimba E' un bimba Ok adesso è l'ora di fare la raccolta punti Ovvero la piramide Andiamo Oh bimba Ora il caglio preso Ecco la raccolta punti Ecco la raccolta punti E' qui Oh cacchio ma che c'è E' qui E' qui E' qui È morto? Sì, 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 stop, vai È un po' piccola Il mostro ci ha sottratto una altra bambina E l'allontanerà da noi, come già fessi con Eleanor Fate vedere cosa succede ai papà Quando si intrupolano, casa nostra Sento che funziona un po' Il mostro ci ha sottratto una altra bambina Cioè, alla fine di essere biciassi pure con una pivella Non è un problema Tu toccala, toccala mai, toccala Bimba Allora, questo è il posto dove puoi scegliere se asciugare o salvare la bambina Io le salvo tutte Non mi interessa Perché se lo tratta che è lì Piccole Next cosplay Next cosplay Little sister Grazie Grazie Come mi soffretto Bene Tracy deve essere in casa Ma dovrai superare una specie di mezza montagna E per farlo Immagino che dovrai scoprire come ha fatto quel bestione a diventare così forte Doping Trovati una telecamera genetica figlio Con una di quelle puoi fare delle belle scoperte sui ricombinanti Prova col banco di impegna downtown Ok, qui salvo, vero o no? Non è meno mistica dei crocifissi che sequestri e faiate Ok Ho preso lo slot in più Sì, sarà tutto più bello dopo Me lo fai vedere adesso come si fa? No, perché sai Ok, allora qua ce ne ho 4 Adesso penso che mi tengo comunque tutto Perché questo è più utile perché blocca i nemici Quindi se ti prendono le sorpresa te li blocchi Ciao Ciao Allora Ah, io sono pure qua Beh, eccola il banco dei pegni Ma sembra inaccessibile Dovrai trovare un'altra entrata Sono un big daddy Questo io me lo mangio a collezione Le catene No, eh Non lo mangio a collezione Il big daddy Può ubriacarsi Può ubriacarsi Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Manca il capodanno Un attimo arrivo Un attimo Ci sono Ci sono Non ci sono Oh ripigliate 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 Almeno tu metti Sì Ma dovrei farlo No, 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 no. Come as we draw. Eleanor è cresciuto ormai il rampitore di bambine e anche dopo ciò che hai fatto, la dottoressa le ha trovato a diventare qualcosa di perfetto, qualcosa di sacro. Lei è come una figlia per tutti noi. Adesso nessuno ti offrirà rifugio al raptor. Lei l'ha fatta. Lei si è fatta un'idea sbagliata. Non è colpa tua se Eleanor è diventata una sorellina. Grazie. I Big Daddy sono solo schiavi e tutti sei liberato da poco. Sinceramente non ho idea di come io abbia preso questo codice. Forse non me ne sono nemmeno accorta, ma vabbè. Faccio abbastanza veloce la raccorta. Ok. Vabbè, vabbè. Muori, muori, muori. Muori, 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 muori. Buon appetito. Ma devo pensare o no? Buon appetito. Buon appetito. Vabbè, distanza. Mi sembra di essere Batman. un'amona bananananananananana bananananananananana ok aaaaaaaaaaaaaaaah ecco ecco quello si prova allora vedo tutte le due camere contro no 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 ah allora ah ma io devo entrare qui è per questo che c'è la luce divina ecco Alla telecamera di ricerca, premio il rett, mentre il nemico è inquadrato per avviare una sezione di ricerca E' un minuto E' un minuto E' un minuto E poi la metto se io Ti dirà qualcosa di più sul suo DNA Proviamola subito, ok? Ok, adesso mantieni la calma Questo tipo potrebbe fare il caso nostro Inizia a registrare e poi colpiscilo un po' con tutto quello che hai Plasmi, di armi da fuoco, qualsiasi cosa Oh, buono Bravo figliolo Man mano che scopri a cosa sono vulnerabili i ricombinanti, ogni tanto la telecamera ti farà un regalino Ora trova uno di quei grossi brutti e deliminalo mentre lo riprendi In breve tempo potrai sgomberare le macerie presso l'hotel Buono 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 Io si combina anche per loro lo posso anche ammazzare a spandaglia Ehi, io Ecco uno di quei giganti Fai partire la telecamera e suonagliele di santa ragione Un attimo Pallettoni Allora Come siamo messi qui Buono Buono guardati sembri un regista in erva e a quanto pare hai appreso un trucchetto da quello zoticone ora torna al Sinclair Deluxe e supera senza farti problemi il casino che ti blocca la strada ok ok allora devo andare là guarda faccio la stessa cosa nascondi, nascondi, nascondi tutto bene allora perché cavolo un attimo io devo concludere il video mi dà il tempo un attimo mannaggia a te vieni qui devo concludere il video vieni qui è una luce meraviglia è una meraviglia muori un fiore ti stai evolvendo rapidamente ma il tuo cuore si sta indebolendo io posso tenerti in vita ma tu devi trovarmi grazie ipnotizia io spero che vi sia tutto questo gameplay se volete vedere altri gameplay basta che me lo dite io comunque le sto facendo altri anche di altri videogiochi insomma come vi pare grazie per l'attenzione bye bye